Siamo veramente contenti noi di Radio Bruno perché ci emoziona ogni volta, è veramente un personaggio incredibile, Diodato, ciao! Ciao, ciao, mi hai fatto emozionare dicendo questa cosa, l'hai visto? Antonio, tu veramente non sei un cantautore, sei un poeta, te l'ho detto tante volte, dipingi delle scene quasi, perché appunto poi le tue canzoni sono colonne sonore, dipingi dei momenti. Quello è il tentativo, poi non so se ci riesco sempre, però non lo so, sono cresciuto ascoltando artisti che dipingevano mentre cantavano e quindi sicuramente ho subito quell'influenza lì. Mi fa piacere sentire ciò che mi dici perché era un po' l'obiettivo quando ho iniziato, provare a trasmettere un'emozione a qualcuno e far vedere qualcosa a qualcuno. Perché comunque la capacità proprio di scandire le parole, queste parole segnano comunque in ognuno di noi un percorso, un momento di vita, un flashback, un cassetto che si apre. A proposito della canzone Sarremese, puoi dirci qualcosa in merito? Come è nata? Dove hai trovato l'ispirazione? L'ispirazione è partita da un'interiorità, da delle cose che stavo sentendo e provando, anche abbastanza inaspettate. Capita a volte di sorprendersi di risentire alcune cose che pensavi ormai fossero lontane. In quel periodo oltretutto ho parlato con un po' di amici che mi stavano raccontando le loro vicissitudini e ho ritrovato le stesse sensazioni anche nei loro racconti. Quindi ho pensato forse devo provare a raccontarla questa cosa qui. È una canzone che vive anche una specie di mini viaggio al suo interno, arriva ad avere una sorta di liberazione e forse anche di abbandono a quell'emotività. La tua vittoria del 2020 fa sì che noi possiamo, anzi riteniamo che tu sia abituato a quel palco, invece ogni volta è diverso? Ogni volta è diverso, ogni volta è anche forse l'aspetto bello, è unico di questo palco. Ogni volta senti anche un po' il peso di una responsabilità, non solo per quello che andrai a fare. Io sono molto competitivo nei miei confronti, non amo la competizione tra artisti nell'arte in generale, però sono uno che pretende tanto da se stesso, quindi un po' d'ansia me la creo da solo. Però devo dire che c'è una bella atmosfera. Spero duri tutta la settimana questa idea proprio di festival e di festa della musica. Festa a celebrare i grandissimi della musica italiana, emozione che proseguirà anche nella serata di venerdì con Jack Savoretti e l'omaggio a De Andrè. Sì, ha segnato un po' la mia vita, ma mi ha insegnato un po' anche a scrivere. A un certo punto, quando ho cominciato ad ascoltarlo seriamente, ho capito che era un punto di riferimento irraggiungibile, però una bella stella da seguire. Dieci anni fa ho fatto una versione di quella canzone lì, che si è trasformata poi in questi anni. Mi piaceva l'idea di rendere omaggio a un grande come De Andrè, un po' nella sua terra, perché è un ligure a pochi chilometri dalla sua città, su un palco che rappresenta la storia della musica italiana, ma che ha interagito poco con lui. A 25 anni anche dalla scomparsa, è un po' per raccontare anche questo viaggio che abbiamo fatto insieme. Come compagno di viaggio avere un cantautore britannico, che però ha il sangue, il cuore genovese, mi sembrava una cosa bellissima. Ci vogliamo bene, io e Jack, quindi solo good vibrations. E a proposito di queste belle energie, subito dopo Sanremo, che ci sarà? Ci sarà, non proprio subito dopo, ma tra qualche mese ci sarà questo tour teatrale che abbiamo lanciato in questi giorni, proprio perché partiamo da un palco, come quello storico, come quello dell'Ariston, e poi farò il mio primo vero tour teatrale. Quindi sono molto contento, ci sto pensando tanto. In questi giorni mi piacerebbe fare qualcosa di speciale, ci sto lavorando, però non è detto che non accadano anche altre cose belle nei mesi a ridosso anche del festival. E naturalmente ce le dovrai raccontare tutte, lo sai. Lo so, io vengo molto volentieri a raccontarvele. Grazie mille, addio dato. A te e a voi, ciao.